Gossip Barbara D'Urso lascia senza parole, l'annuncio shock prima del GF 2018 Barbara D'Urso si prepara a prendere in mano le redini del Grande Fratello 2018. Questa sera 17 aprile andrà in onda in prime time la puntata d'esordio di questa quindicesima edizione del reality show che tornerà nelle mani della presentatrice Bislacca. La più amata in assoluto dal pubblico che segue la trasmissione. Un ritorno decisamente molto importante che ha entusiasmato tantissimo gli spettatori del programma. I quali adesso attendono di vedere tutte le novità di questa stagione e soprattutto i concorrenti che entreranno nella casa più spiata d'Italia. Il ritorno di Barbara D'Urso in prime time con il GF 2018. La D'Urso durante la conferenza stampa di presentazione del GF 2018 è apparsa in ottima forma. La conduttrice sta vivendo un momento d'oro dal punto di vista televisivo, costellato dal grande successo di pubblico di pomeriggio 5 e domenica live. Le due trasmissioni fiore all'occhiello della programmazione di Canale 5 che registrano ogni giorno e settimanalmente ascolti ben al di sopra di tutte le più rosee aspettative. Ma come vi dicevamo durante la conferenza stampa del GF 2018 c'è stato anche un annuncio clamoroso da parte di Barbara D'Urso che ha lasciato tutti senza parole. I giornalisti, infatti, hanno chiesto a Barbara come fossero i rapporti tra lei e Paolo Bonolis, dato che in passato si era parlato di un clima non proprio sereno tra i due conduttori di Canale 5. Complice anche il fatto che la D'Urso non annuncerebbe mai al termine di pomeriggio 5 l'inizio della nuova puntata di Avanti un altro, il game show preserale condotto da Bonolis. Ecco l'annuncio di Barbara D'Urso su Paolo Bonolis. Ebbene la D'Urso questa volta ha messo a tacere tutti i rumor se le male lingue riguardanti il suo rapporto con Paolo Bonolis. Affermando che tra di loro non c'è alcun clima teso e ha poi aggiunto che molto presto li vedremo fare qualcosa assieme in tv, che stupirà a tutti. Un annuncio a dir poco clamoroso che ha ovviamente spiazzato i fan dei due conduttori del Bishon. I quali adesso si stanno chiedendo quale possa essere questo progetto televisivo in comune. Tra le ipotesi maggiormente quotate vi è quella di vedere la coppia D'Urso Bonolis al timone della prossima edizione dei Telegatti. La storica chermesse che premierà i programmi e i volti della tv italiana, che tornerà in onda su Canale 5 nella prossima stagione televisiva per la classica serata e evento. .